Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Concorso Corecom Toscana in spot 2021, anticorpi monoclonali, educazione internazionale, osservatorio regionale della legalità, piano nazionale di ripresa e resilienza. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il bando di concorso per videomaker Toscana in spot 2021, ritorno al futuro, indetto dal Corecom il Comitato regionale per le comunicazioni per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050. A venire premiati saranno i tre migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana. Noi vorremmo offrire l'opportunità ai giovani, in modo particolare filmmaker della Toscana, la possibilità di raccontarci come loro vedono il 2050. Raccontarcelo dando spazio alla creatività, alla fantasia, immaginando, e l'immaginazione si sa che è la massima espressione della libertà. E allora questi stimoli possono divenire un messaggio, un'idea, uno stimolo per quello che potrà essere la Toscana del 2050. Una Toscana che avrà vissuto però questa situazione di pandemia, che comunque modificherà in tutti noi le abitudini, le culture. E allora vedere come lavoreremo nel 2050, come ci muoveremo nel 2050, come costruiremo le nostre città nel 2050. Molte cose cambieranno. La speranza però è che i ragazzi nel costruire questi spot ci offrano un'occasione positiva, quindi molto più quello in cui credono che molto di più di quello in cui potrebbero tebere. Io mando un appello a tutte le ragazze e ragazzi toscani, partecipate, date il vostro contributo, provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani. Come sarà il turismo nel 2050, come sarà l'agricoltura nel nostro territorio, tra città d'arti e piccoli borghi, come riusciremo a farli crescere insieme. E le tecnologie, come impatteranno sulla vita dei cittadini, che cambieranno in maniera notevole. Ecco, attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani, vorrei che venisse fuori davvero l'idea della Toscana del futuro. Io in queste settimane ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura. Devo dire che è stata l'esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi. Grande contaminazione, grande capacità di leggere il presente e il futuro. Grande voglia di partecipare nella vita pubblica. Come ho detto ai ragazzi, non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte, abbiate il coraggio di porci i temi di frontiera, quelli più difficili da trattare, il rapporto tra l'uomo e la macchina, la necessità di ripensare i temi dei diritti in maniera più sensibile. Via libera del Consiglio regionale alla risoluzione presentata dal Vice Presidente Stefano Scaramelli, volta ad accelerare la fase di sperimentazione del farmaco anti-covid a base di anticorpi monoclonali. Un atto forte, ho presentato il Consiglio regionale per impegnare il Presidente della Giunta regionale toscana, Eugenio Gianni, a impegnarsi in prima persona. Serve che la Toscana faccia la propria parte nel percorso di sperimentazione. Serve aumentare il numero delle persone che si sottopongono in termini volontari a questo processo, che è importante, se pensiamo che noi abbiamo circa 100 positivi al giorno, basterebbero 6 positivi al giorno che entro le 72 ore potrebbero sottoporsi in maniera volontaria a una cura che li può guarire e nel guarirli li rende intanto sicuri del fatto che la loro condizione di salute non peggiora e allo stesso tempo danno un contributo straordinario alla scienza, perché servono 800 persone in Italia che danno un contributo. A me è successo nel momento in cui diedi il mio sangue subito, appena malato e quindi guarito dal Covid, perché da quel processo si può aiutare la scienza. Avere un farmaco è determinante, perché avere un farmaco ti può consentire di non dover fare magari il terzo richiamo di vaccino, può essere un effetto importante qualora le persone si dovessero poi riammalare anche dopo l'estate e soprattutto può farci tornare una vita normale. Questo è un tema sul quale noi non si può mai abbassare l'attenzione, bene i vaccini oggi, ma domani servirà comunque un farmaco per uscire da questa pandemia, se no noi non usciremo mai da questa pandemia. La Toscana ha un farmaco, l'ha prodotto, è nelle disponibilità, il Governo si è impegnato a acquistarne 200.000 dosi, è l'unico progetto pubblico che potrebbe diventare di proprietà pubblica, cioè lo Stato, la Regione, titolari del farmaco, grazie al quale si può avere la disponibilità della risoluzione della pandemia. Una risoluzione della Commissione Cultura e Istruzione che ha riscosso l'approvazione unanime del Consiglio dedicata all'educazione internazionale, un comparto importante per il territorio che non ha avuto aiuti per gli effetti della pandemia. La Quinta Commissione ha presentato un atto in Consiglio regionale, oggi una risoluzione per aiutare e sostenere un mondo di imprenditori, di dipendenti che finora è rimasto fuori da ogni meccanismo di aiuto, da ogni provvedimento di aiuto e sostegno. Si tratta del settore dell'educazione internazionale, dell'International Education, università americane, scuole di italiano per stranieri, istituzioni generatrici di indotto anche turistico, perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività, senza utenti, che invece stanno pian piano tornando. È un settore che impiega moltissimi insegnanti, precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese. Ci sembra un settore da aiutare, è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi, tra Firenze e Siena ci sono le due città in Italia che raggruppano più centri, più scuole internazionali dopo Roma e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio. Ci sembrava importante prevedere e favorire un aiuto a questo settore, a tanti dipendenti, a tanti insegnanti che sono rimasti appunto senza poter lavorare. Approvata in aula con voto favorevole all'unanimità, una proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale della legalità, una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un Osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'Osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo Osservatorio, garantendo che l'Osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'Osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'Osservatorio. Un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico, che ha come scopo principale la diffusione della cultura della legalità e l'accessibilità di questo importante strumento di cui finalmente andrà a dotarsi la Regione Toscana per promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata. Sapete bene che ho il tema della lotta contro la criminalità organizzata, particolarmente a cuore sono stato tra i primi a presentare in questa consigliatura degli atti specifici. Non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'Osservatorio della legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. E al tempo stesso attiva la Commissione sulla lotta contro le infiltrazioni di criminalità organizzata, preseduta dalla mia collega Elena Meini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare, come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile. Quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'Osservatorio della legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno. Il nostro sarà un voto a favore, sperando che anche alcune nostre idee possano essere accolti. Il Consiglio si è espresso all'unanimità sulla risoluzione che chiede di intercettare ogni possibilità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche per le aree interne. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in Commissione presenta molte opportunità. Il Piano Nazionale dei Borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi, per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse, abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la Regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. Quindi noi chiediamo alla Giunta, al Presidente, di strutturare un'unità di missione, un coordinamento che faccia da punto di riferimento su questi temi in Regione per le province e i comuni della Toscana, ma anche per i progetti che dovrà presentare la Regione. L'altro, se i comuni e soprattutto i più piccoli ci dicono abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione, questi comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità. E quindi occorre, come Regione, mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione. Mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del digital divide. Io continuo a sostenerlo da tempo. Una Regione degna di tale nome, che vuol guardare al futuro, vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro, non può pensare che ancora oggi esista, all'interno del proprio territorio, esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale. Oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi, che vengono alla luce nello stesso istante, uno che nasce in una città importante, uno che nasce in un comune, magari montano, magari di qualche area interna, per tutta la vita avranno opportunità differenti. Non avranno le stesse opportunità, non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità. Questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una Regione che guarda al futuro. Siccome i soldi del Recovery Fund non sono soldi che ci vengono regalati, e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettono bene in testa, perché abbiamo sentito tante volte dire «Eh, ma abbiamo questi soldi da spendere». No, abbiamo questi soldi da investire, perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058. Quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi, oppure ci andremo a indebitare. E quello che oggi sembra un regalo, un domani potrebbe diventare un incubo. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Crona che commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.